Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video inizio subito col dire che non sono un grande fan o ammiratore di armi anche perché in Italia praticamente è vietato quasi tutto semmai sono più il minimalista, quel tipo d'arco e freccia, fionda appunto, fionda, ed ecco qua che abbiamo una fionda un po' più moderna tra l'altro ho notato che, sì, le armi migliori, le mie armi migliori o preferite sono sempre i miei calzini, la puzza dei miei calzini o alla fin fine altri odori che... no, non c'è un storio oggi voglio farvi vedere il pocket shot allora vediamo subito di cosa si tratta abbiamo questo attrezzo, la fionda con questa gomma in lattice qua e con un coperchio davanti che si può togliere poi questo coperchio è un altro utilizzo che vediamo dopo qua abbiamo un anello questo anello sono due anelli che si possono avvitare uno sull'altro e poi vediamo anche perché e il principio è semplice, praticamente qua mettiamo dentro una munizione, qualcosa prendiamo dietro, tiriamo e via tutto qua il tutto assieme, il coperchio, col coperchio chiuso pesa 55 grammi e va chiuso così e come vedete voi è piccolissimo da tenere in tasca semplicemente misura 6x2 cm si possono ordinare vari modelli abbiamo questo modulo in nero e quello in blu poi vediamo perché anche quello normale in nero è quello standard quello che si prende con la confezione standard questo è un po' un modello extra ma perché colori diversi? allora questo nero arriva a lanci di 330 km orari e questo blu a 380 km all'ora e già qua a sto punto mi tocca dire non è un giocattolo che sia chiaro questa cosa è una cosa pericolosa punto e basta ed ecco perché dopo quando farò qualche test che vi farò vedere metterò anche gli occhiali protettivi perché già a me è successo che le palline e certi sassi sono ritornati indietro con una velocità immensa e mi sono spaventato anche io le prime volte ce l'ho da settimane già questa gomma nera dice il produttore che tiene da 300 a 500 tiri dovrebbe tenere poi dipende anche che munizioni usiamo dopo vediamo un po' quale munizioni possiamo mettere dentro se ad esempio prendiamo dei sassolini o dei sassi non belli tondi con degli angoli che sono un po' affilati ovviamente roviniamo la gomma e non tiene così a lungo il blu tiene un po' di meno dai 200 ai 400 tiri c'è un altro metodo per fare un po' attenzione a rovinare di meno la gomma praticamente se mettiamo una munizione non tenerlo dietro in fondo ma un po' più avanti lo teniamo un po' più avanti un po' prima della munizione tiriamo e lasciamo come munizione vedete che vanno bene sfere di plastica o d'acciaio o delle munizioni di vari diametri anche qua vedete questo è un po' più piccolo questo è più grande vanno bene munizioni da soft air o da paintball vanno bene anche dei cecolatini come qua questi li ho trovati a casa che sono scaduti sono delle uova o qualcosa dei sassolini che siano però sì questo è anche bello tondo ma comunque non c'ha degli angoli affilati poi ci sono queste sfere qua da eh non so più come si chiama avete ben capito dove si poteva fare i giochi così non mi ricordo più come cavolo si chiamano questi qua e sassolini sì vabbè roba così tra l'altro la munizione può essere trasportata tranquillamente mentre dentro il pocket shot così abbiamo la munizione sempre pronta allora prima vi ho parlato del del coperchio che può essere usato in un altro modo adesso vediamo come se vogliamo cambiare questo modulo in lattice praticamente dall'altra parte del coperchio abbiamo questa parte che si può mettere qua dentro e semplicemente girare in modo anti-orario o anche dall'altra parte no ecco dall'altra parte si apra questo si apre semplicemente si può di nuovo togliere si continua a girare affinché riusciamo a togliere e mettiamo sopra quello nero controlliamo controlliamo che è ben messo su bene e si chiude di nuovo e qua non bisogna stringere più di tanto perché a me è successo anche che l'ho stretto troppo e ho fatto molta fatica di nuovo ad aprirlo ok pronto cambio fatto prima ho usato cioccolatini per quello che ho tirato nella natura tanto è lo stesso quelli li mangerà qualche paniglietto ora uso le sfere in acciaio per quello che ho messo dietro qualcosa perché voglio raccoglierle non voglio lasciarle in giro qua in mezzo al bosco chissà non penso che potrebbe danneggiare più che tanto un animale ma se riesco me le porto di nuovo a casa comunque allora adesso sono a distanza di circa 5 metri prima erano 10 metri vediamo un po' ecco ma è tornato indietro allora guardate qua questo si è rotto e qua sopra l'ho beccato e qua vorrei farvi vedere qua praticamente è entrato da questa parte ed è uscito dall'altra qua dietro è uscito giusto per capire la potenza che ha sta roba con le paline d'acciaio le sfere d'acciaio safety first no? giusto per capire un po' con questo nero come avevamo detto prima abbiamo una velocità di circa 300 fps feet per second che sono circa 330 km all'ora km orari e questo vuol dire che con una palina da 8 mm più o meno cioè più o meno con una palina da 8 mm arriviamo a circa 12 joule di potenza 12 joule di potenza devo dire altro quelli che tirano fanno tiro sportivo con armi a area compressa sanno cosa vuol dire io non sono un esperto non me ne intendo più di tanto perciò sicuramente voi che ne sapete di più comunque è veramente potente ho usato il nero non si vedeva prima poi ho usato anche il blu è un po' più duro da tirare il blu senz'altro per mirare è senz'altro più facile con le paline in acciaio cioè paline tonde vere e proprie prima con le uova posso toglierle prima con le uova e robe che non sono veramente tonde ovali o un po' più angolate è difficile che va dritto ma con delle paline o delle munizioni belle tonde dopo un po' di esercizio ci si riesce a mirare bene e beccare anche qualcosa e questo tutto fino a circa 20 metri più o meno al massimo 20 metri dicono con condizioni ideali io il massimo che ho provato sono intorno ai 15 metri e lì si una lattina del genere la becchi bene ancora prima ho detto che questi tengono 3, 4, 500 tiri allora con questo avrò tirato sicuramente intorno ai 200-250 tiri e qua dietro c'è già un piccolo piccolo non un buco ma mi sembra che è un po' rovinato tirato non ve lo faccio neanche vedere perché sono sicuro che non riesco a inquadrarlo con la telecamera comunque se si ordina qualcosa del genere 3 di questi nuovi neri costano intorno a 10 euro 3 di questi blu costano 12-13 euro sul sito si trovano un sacco di materiale o roba di ricambio da come detto da queste gomme a coperchi a sfere palline o dei contenitori tipo del genere questo è ben ingegnoso praticamente se apri qua sotto cadono fuori le palline ma rimangono sempre qua incredibile così puoi prenderle caricare e tirare io prima le tenevo in mano semplicemente anche quello funziona e questo si può attaccare dietro a una cintura comunque è un po' stretto potrebbe essere un po' più largo la ditta mi ha fatto sapere che era un po' incavolata perché voleva partire con la vendita vendita su amazon mandando questi oggetti un paio di youtuber italiani e su e voleva partire con la vendita su amazon e amazon gli ha negato la vendita ha detto di no perché per amazon questo in italia è un'arma e già viene ritenuto un'arma e altre fionde o attrezzi simili a fionde vengono vedute e in quel caso lui l'ha reclamata sta cosa e in questo caso amazon ha detto anche le fionde normali classiche prima o poi prossimamente verranno tolte da amazon in italia pensa te non avrei mai pensato sta cosa che è una semplice fionda usata da bambini scout giovani adulti per il semplice modo di divertirsi un po' sarebbe stata un'arma ma è chiaro che questo attrezzo è un oggetto pericoloso quello l'ho già detto prima e lo voglio ripetere non è qualcosa da dare in mano a un bambino è chiaro comunque puoi avere il 18enne che si fa male con questa cosa o anche il 25enne perché in quel momento lì non ha fatto attenzione perciò c'è sempre da fare attenzione c'è da stare molto molto attenti con questo cosa la mia opinione è che è un bel oggetto survival da prendere sul serio non proprio un giocattolo non è un giocattolo posso immaginarmi magari che anche nell'ambito militare potrebbe essere una cosa interessante caccia o anche non back out back perché no dovete pensare che con un oggetto così puoi senz'altro far male a dei piccoli animali e magari usandolo anche come autodifesa perciò dico un back out back posso immaginarmelo la cosa che ho detto sugli animali pensateci neanche è assolutamente vietato farlo se l'ho detto in casi estremi per cosa potrebbe essere usato un attrezzo del genere e forse per quello potrebbe essere interessanti per alcune persone e ora per chiudere ripeto l'ultima volta non è un giocattolo è un attrezzo dove puoi ferire in modo gravemente persone animali e ovviamente anche te stesso se non fai attenzione come sempre troverete tutte le informazioni sotto in descrizione link per la ditta darò forse anche una mano a tradurre un po' perché l'italiano tradotto è pessimo e forse ho detto che darò una mano a aiutare a tradurre quello così si capirà anche un po' meglio la pagina principale in italiano e niente un video che sicuramente non piacerà a tutti è chiaro perché non è proprio un oggetto simpatico a tutti ma ci ho pensato anch'io all'inizio se fare o non fare questo video prima ho spiegato un po' i motivi perché forse non potrebbe essere interessante o non piace una roba del genere è chiaro ma poi ho detto mi son detto è una fionda non è nient'altro che è una semplice fionda moderna fatta in un altro modo e di fionde ne abbiamo usato costruito tutti mi ricordo che io le facevo le usavamo bastava un ramo qualcosa con una forcella ci mettevi qualcosa intorno per tirare tiravi dei sassolini tutti lo abbiamo fatto perciò non la trovo una cosa così grave comunque c'è da fare attenzione per l'ultima volta e ho deciso di fare questo video spero vi sia piaciuto un saluto a tutti ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao